Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo 22esimo bollettino del Melo del Pero del 6 agosto 2021. Un saluto dalla Coldiretti di Verona, dall'Aipo OP, dal Consorzio Ortofrutta Veneta, dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona, dall'Associazione Tecnici Frutticoli. Fase fenologica del Melo. Continua l'ingrossamento regolare dei frutti. È iniziato lo stacco dei cloni Gala Devil Gala, Dark Baron, il Gala Sniga, il Snico Red, con colorazioni rosse e rosso scuro tra media e buona, che si stende oltre il 60-70% della superficie epidermica e sono ancora in allargamento. I calibri di queste mele sono mediamente di un più 65 con diametri in aumento. I gradi Brix sono mediamente compresi tra il 10,5 e l'11. La durezza è media, superiore a 6 kg cm2. Veniamo ora alla difesa fitosanitaria. Ticchiolatura. Le piogge di inizio settimana sono favorevoli a dare origine a infezioni estive, come pure le bagnature fogliari notturne. Va mantenuta la copertura approssimativamente ogni 8-10 giorni e prima di eventi piovosi. Oidio. Presenza di infezione. Se necessario, utilizzare i prodotti a base di captano ed odina. Piralide del mais. Ancora limitate presenze. Si consiglia di attuare sfalci abbastanza frequenti. Solo negli impianti dove negli anni precedenti si sono riscontrati danni intervenire con Idoxcarb, massimo 4 interventi all'anno. Si sono riscontrati maggiore presenza su meleti a conduzione biologica, dove è possibile intervenire con Bacillus thuringiensis, ricordando che solo alcuni formulati commerciali hanno l'autorizzazione sul melo. Carpocapsa. Pochi voli della seconda generazione d'adulti, che si può considerare in esaurimento e che ha creato limitati danni. È necessario comunque proseguire con interventi larvicidi. Diversa è la situazione nei meleti a conduzione ed agricoltura biologica, dove l'attività trofica delle larve ha colpito molti frutti. Cimice asiatica. Proseguono le catture d'adulti e forme giovanili di diversa età. Ogni dieci giorni vanno ripetuti gli interventi fitosanitari a contrasto. Afide lanigero, afide verde del melo e afide grigio. Solo qualche limitata presenza nei meleti. Euglia. Osservate rare catture del nuovo volo. Litocollette. Catture in leggero aumento. Cemiostoma. Nessuna cattura in questa settimana. Grandine. Dopo una grandinata, effettuare entro 24 ore dall'evento un intervento fungicida al fine di cicatrizare le ferite con ditianon o captan. Mi raccomando valutare attentamente i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari utilizzati. Pero. Fase fenologica. Comprese tra maturazione e raccolta. William siamo intorno a 12-14 gradi brics. Abate fetel intorno a 14-16 gradi brics. Conferes 15-16 gradi brics. Kaiser 15-16 gradi brics. Ticchiolatura e macolatura bruna. Dove si riscontrano presenze di macchie vi è il rischio di infezione secondaria. Mantenere la copertura fitosanitaria. Psylla. In presenza di infezioni intervenire con abamectina. Sali potassici di acidi grassi. Bicarbonato di potassio. Olio minerale. Agricolle. Uso di antacnoridi. Carpocapsa. Stesse indicazioni date per il melo. Cimece asiatica uguale. Alternaria. Ancora elevata la presenza di infezione. Il mantenimento della copertura per l'aticchiolatura ha valenza anche per questo crittogama. Mi raccomando anche nel caso del pero valutare attentamente i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari che state utilizzando. Un saluto e un arrivederci al prossimo bollettino del melo del pero. Un saluto e un saluto.